Per chi non la vuole ballare, ne approfitta per ascoltarla, perché è molto molto importante. Per chi non la vuole ballare, ne approfitta per ascoltarla, perché è molto importante. Per chi non la vuole ballare, ne approfitta per ascoltarla, perché è molto importante. Per chi non la vuole ballare, ne approfitta per ascoltarla, perché è molto importante. Per chi non la vuole ballare, ne approfitta per ascoltarla, perché è molto importante. Per chi non la vuole ballare, ne approfitta per ascoltarla. Per chi non la vuole ballare, ne approfitta per ascoltarla, perché è molto importante. Grazie a tutti.